Tra le tante proposte organizzate per l'estate dalla pastorale Adolescenti e Giovani della Diocesi di Verona ne spicca una perché la meta è speciale, la Terra Santa. Una proposta consolidata che vede ogni anno partire giovani alla scoperta dei luoghi e dei fatti narrati nei Vangeli. Non è secondario che proprio nelle settimane anche nelle quali faremo i pellegrinaggi verso Roma per il Sinodo, per vegliare con il Papa in vista del Sinodo di Ottobre, proprio in quelle settimane c'è anche quest'altro pellegrinaggio. Un gruppo di giovani, evidentemente, della nostra diocese andrà in Terra Santa. Ormai sono quasi 20 anni che tutti gli anni, ogni estate, un gruppo di giovani scende in pellegrinaggio appunto nella Terra del Santo. Come sarà strutturato? Beh, è uno stile ormai assodato e gradito dai nostri giovani. Sarà sulle due settimane, sarà un'esperienza estremamente spartana, estremamente radicale, Bibbia alla mano, dalla mattina alla sera, l'incontro con i luoghi di Gesù, a partire dal deserto, dal deserto alla Galilea, a Gerusalemme, passando per la Samaria pure. E lo stile sarà quello appunto dell'essenzialità, della Bibbia in mano e dell'incontro con le pietre vive. Non facciamo solo archeologia, non andiamo soltanto ad incontrare i luoghi di Gesù, ma andiamo ad incontrare la comunità cristiana che porta avanti la memoria del Vangelo nei nostri giorni, in quella terra, nella Terra del Santo. E qui ci saranno incontri con credenti, con cristiani del luogo, ci saranno incontri con testimoni che stanno vivendo, come ben sappiamo, anche in situazioni di fatica a vario titolo. Un'esperienza che parla di fede, di storia e di attualità, con ciò che significa oggi essere in Palestina e in Israele e rimarrà nel cuore di chi potrà partire. Dopo aver visitato i luoghi della vita di Gesù, aprire il Vangelo non è più la stessa cosa? No, questa è un'esperienza che io ho sulla pelle, ma molti altri giovani, sacerdoti e giovani. Una volta che sei stato in Terra Santa, una volta che hai visitato, pregato, gustato, assaporato certi luoghi, quando riapri il Vangelo su quella pagina, su quelle pagine, e sono tante, non è più la stessa cosa. Non soltanto leggi un messaggio, non soltanto stai davanti, chiaramente alla presenza del Signore, ma anche colori, sapori, ti tornano decisamente alla mente, al cuore, alla memoria e ti permettono anche di entrare nel testo in un altro modo.